buongiorno siamo qui sotto noi si ok buongiorno siamo qui quindi questa è la prima modalità o una parola omaggio la seconda invece ora non ve li non ve li busso questi crediti dovete andare sulla o anzi ve lo faccio rivedere se no sono stato troppo veloce scansiona quar o inserisci codice si attiva una fotocamera che questa qua gli va messo davanti questo quadro di qui ok ok lo devi inquadrare sopra quello sotto questo sopra quello sopra ok e ti consente di acquisire in questo caso un credito con quest'altra gift card 4 credito ok questo qualcosa che vede invece in basso serve per scaricare l'app in automatico quindi la puoi trovare su gestore cercando per in casa ora inquadrando questo qualcosa e ti manda direttamente al tuo store e te la fa scaricare attualmente facilissimo si poi la rompeggio ritorni e proprio come il processo tradizionale puoi scegliere una foto dalla tua galleria quindi come facciamo i denti di qualsiasi numeri con scattare un momento inserire il messaggio anche a mano libera il medello che disegna il credito che avete acquisito vi consente poi di inviare la cartolina che arriverà ai nostri in server noi tutti i giorni si prende la cartolina telefono fotocamera word call vai direttamente all'applicazione se non c'è letto la scarica in automatico dopodiché quando entri dentro e devi decidere la foto che te pensi sia meglio da poter mandare le persone scegli la foto che preferisci scrivi il messaggio quindi dietro puoi o scrivere attraverso il tastierino del telefono o disegnare in questo caso devo facciare questo disegno il colore con il dito disegni continua scegli destinatario allora proviamo me la spedisco nome è arrivata è arrivata